Il tennis di respiro internazionale torna a Bari. L'attesa è finita, adesso si fa sul serio. Dal 4 all'11 settembre il capoluogo pugliese ospiterà il WTA 125 Open delle Puglie. Si tratta del terzo torneo italiano per importanza dopo gli internazionali di Roma e il Palermo Ladies Open. Per la prima volta nella sua storia, inoltre, la Puglia ospiterà un torneo che vedrà la partecipazione delle tenniste professioniste provenienti da tutto il mondo. Curioso è poi il fatto che la manifestazione si svolga durante la seconda settimana degli US Open e le giocatrici che non riusciranno ad accedere alle fasi finali dello slam potrebbero guadagnare punti preziosi e scalare il ranking mondiale proprio nel nostro territorio. Non si escludono nomi di alto profilo. È tutto pronto, dal 4 all'11 settembre il circolo tennis bari ospiterà tra le più grandi giocatrici del mondo. Un torneo da 125 mila dollari femminile che il circolo e tutto il consiglio, i soci hanno fortemente evoluto dopo un periodo di ristrutturazione. Infatti l'ultimo torneo importante si è svolto nel 2010 dopo un periodo di ristrutturazione che ci annovera tra i circoli più belli d'Italia è raggiunto il momento. Poi c'è stata la pandemia che per due anni di fatto ha bloccato un po' i grandi eventi sportivi. Noi siamo pronti. Sappiamo benissimo la notorietà che il tennis italiano oggi sta avendo a livello internazionale e credo che questo metta alla ribalta anche un territorio che ha sempre costituito un serbatoio tecnico importante per il tennis italiano.